Buonasera dal pala quarta Lauretti di Monteroni, ben ritrovati dopo il match tra Quarta Caffè Monteroni e Juvetrani, vinta dalla squadra padrona di casa con il punteggio finale di 74 a 68. Qui con noi coach Luigi Marra, il presidente Franco Perrone e il dirigente Antonio Vantaggiato. Partiamo dal coach, prestazione importante da parte del suo roster con tanta gioventù in campo, come considera la prova dei suoi ragazzi? Direi ottima perché ai ragazzi avevo chiesto di giocare a pallacanestro nonostante l'idea fosse quella di preservare le persone che solitamente giocano di più. Comunque volevamo fare una partita vera, tosta, che ci preparasse al meglio per quello che poi sarà domenica. I ragazzi sono stati veramente molto bravi perché si sono assunti la responsabilità che solitamente non è loro e hanno fatto veramente una partita vera, giusta, che ci mette nelle condizioni migliori di affrontare i playoff senza pensieri ma sempre con la voglia di fare bene. Presidente, una vittoria che in qualche modo è la ciliegina sulla torta per questi playoff conquistati sul campo. Adesso arriva il bello con un'interessante sfida, con una delle migliori formazioni del torneo. Qual è la soddisfazione della società per aver raggiunto questo traguardo? Bene, nel supernetù guarda c'è una grossissima soddisfazione a livello societario anche perché probabilmente un mese e mezzo fa se qualcuno avesse ipotizzato il settimo posto sarebbe stato preso per un pazzo. Abbiamo fatto un percorso non indifferente, un grazie a Gigi, allo staff tecnico e anche ai ragazzi che hanno saputo plasmarsi le sue immagini e le somiglianze. Credo che adesso ci tocchi il corato perché mi hanno detto che Molfetto ha vinto e di conseguenza andiamo al corato. Non chiudiamo più nulla, si va lì, si gioca e se avremo la buontà di andare avanti si andrà pure avanti. Ti ringrazio. Abbiamo visto un Monteroni particolarmente giovane come diciamo prima, una squadra che è stata costruita con elementi senior come il capitano Francesco Leucci, Valenta Starolis, Arminas Kermelis, Diego Banti. La soddisfazione però di vedere in campo questi giovani del prodotto salentino, com'è? Lo spirito della società è quello, che noi dovremmo onestamente coltivare i ragazzi dal mini basket, a portarli ai risultati, di poter giocare con la prima squadra e poter pensare a un futuro che vadano a giocare in campi importanti a livello nazionale. Questo è l'importante, siamo contenti del risultato che abbiamo fatto anche se l'ha detto Gianfranco, siamo contenti anche di quello che ha fatto il tecnico. Grazie a tutti. Grazie ai nostri ospiti per la disponibilità. Noi chiudiamo qui questa intervista, vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati con noi sul nostro sito, sul nostro canale YouTube e sui nostri social. Vi ricordiamo inoltre che la partita di domenica contro Corato sarà visibile in diretta streaming sul nostro canale YouTube. Buona serata. Grazie.